Questa settimana il venerdì dal sindaco fa tappa a Bollengo, un comune di circa 2000 abitanti, siamo alle porte di Ivrea e siamo ai piedi della Serra Morenica di Ivrea, un comune che ha una storia bimillenaria, qui in epoca romana transitava la via delle Gali e ancora oggi di qui passa la via Francigena e uno dei gioielli che si incontrano proprio qui a Bollengo sulla via Francigena è questa chiesa romanica dei Santi Pietro e Paolo che risale intorno all'anno 1000 e che è stata recuperata nella seconda metà degli anni 80, ce ne parla il sindaco Luigi Sergio Ricca, la carta d'identità del suo paese? È un comune di 2150 abitanti alle piedi della Serra, in una conca che è chiusa tra la Serra e la Serretta, nelle vicinanze di Ivrea, nelle Porediese, è un comune con una tradizione contadina che si è evoluto con l'evolversi della società e oggi i suoi abitanti rappresentano tutte le 20 regioni italiane e anche 24 nazionalità del mondo. Qual è il clima sociale di questa comunità? Il clima sociale è buono, non ci sono particolari situazioni, è chiaro che non è la situazione più di liga del mondo, però io sono soddisfatto di come la comunità si trova unita, partecipa alle associazioni che ci sono, dal centro anziani alla filarmonica, alla Proloco in particolare che anima la vita sociale del paese e c'è un buon confronto e un rapporto diretto con l'amministrazione comunale. Vengo a Bollengo, che cosa devo vedere assolutamente? Quale bellezza naturale o architettonico, artistica? Beh, ci sono delle testimonianze della storia del nostro paese che risalgono al IX secolo e in particolare il Campanile di San Martino, quello che noi chiamiamo il Ciuccaron, che è l'unica testimonianza rimasta a metà della costa della Serra dell'antico borgo di Perno. E poi c'è la chiesa dei Santi Pietro e Paolo in Pessano, che è anch'esso testimonianza di un antico borgo che apparteneva a Bollengo, quello di Pessano, Rocca Ampex, ed è rimasta questa chiesa che era diventata poi di proprietà privata, l'abbiamo acquisita noi e ci è stata donata, era in situazioni disastrose, però a metà degli anni 80-90, anche con l'aiuto di regione e provincia, siamo riusciti a farne un bel restauro e oggi è un punto di riferimento importante sulla via francigena. Ma c'è qualcosa che manca a Bollengo e che il Sindaco vorrebbe realizzare nei prossimi anni e magari lasciare in eredità a successive amministrazioni? Beh, più che manca è qualcosa che dovremmo potenziare e far funzionare come funzionava un tempo. Mi riferisco al trasporto pubblico locale, siamo nella conurbazione di Ivrea, gli autobus sono vecchi, devono essere sostituiti, il gestore dovrebbe provvedere a questo, mancano forse degli autisti, sono saltate molte corse, è un problema che riguarda anche gli altri comuni con termini, ma bisogna dare una risposta. Poi noi abbiamo cercato comunque di fare il meglio trasformando le realtà del nostro paese con la costruzione e la reutilizzazione di vecchi siti abbandonati, abbiamo nuove piazze come la Falcone e Borsellino, un centro di incontri come Biblioteca e centro anziani come la Nuova Torre e abbiamo cercato di fare il meglio per dare le nostre risposte. Qual è il problema numero uno che nella sua attività quotidiana di Sindaco deve affrontare e poi lo consiglierebbe a un suo concittadino un'esperienza come questa? È importante che tutti cerchiamo di occuparci della cosa pubblica e delle proprie comunità. Oggi è più difficile trovare partecipazione. Quando io ho incominciato tanti anni fa, le liste che concorrevano per l'elezione al Consiglio Comunale erano sempre diverse. Per la prima volta l'anno scorso mi sono presentato con una lista sola. La partecipazione della gente, anche alle attività, alla realizzazione, alla crescita, alla trasformazione del Paese, seguiva quelli che erano gli usi della comunità allora e c'era una partecipazione forte. Oggi qualche volta, ma quel problema lì, devo risolvere il mio problema, al resto ci pensa il Comune. Quindi questa partecipazione è un po' più difficile. Però io credo che in una dimensione come la nostra c'è un rapporto tale per cui consiglierei di venire qui per avere una qualità della vita significativa, importante, dolce, però anche con una vicinanza di quelli che sono una città come Ivrea e la capacità di rapporti con il territorio.